Il direttore marittimo di Abruzzo Molise di Isola e Tremiti, il capitano di Vascello Fabrizio Giovannone, all'indomani dell'operazione che ha portato al sequestro di 1.500 kg di prodotto ittico e all'emissione di sanzioni per 25.000 euro, esprime soddisfazione per il lavoro investigativo svolto dai suoi uomini. L'operazione dei giorni scorsi, che noi abbiamo denominato Operazione Mistral, è stata un'operazione complessa, lungo studiata, che ha visto due momenti distinti. Uno, sull'autostrada A25, nel corso della quale il nucleo ispettivo ha intercettato dei furgoni isotermici che trasportavano pescato non tracciato. Cosa significa pescato non tracciato? Significa che sfugge alla filiera dei controlli. La normativa prevede che ci sia un puntuale controllo fra il momento in cui viene catturato il pesce al momento in cui viene somministrato all'utente finale. Quando si interrompe questa catena dei controlli, vuol dire che gli aspetti igienico-sanitari e di salubrità del pescato sono compromessi, perciò è particolarmente importante. Quindi a questa operazione iniziale, nell'annottata, poi è seguita un'altra operazione sempre complessa e difficile che ha avuto come oggetto i grandi centri di distribuzione, dove questo pescato di frodo approda e poi si diluisce insieme a tutto l'altro pescato e viene rimesso nel circuito commerciale. L'attività investigativa, possene essere da militari, ha aggiunto ancora il comandante, ha portato in pochi giorni all'effettuazione di 150 verifiche in Abruzzo e Molise. Intanto, anche quest'anno, gli uomini della Capitaneria di Porto saranno impegnati nell'operazione denominata Mare e Laghi Sicuri 2024, che si protrarrà fino al 15 settembre prossimo con l'incremento delle attività di vigilanza lungo le coste dei comuni rivieraschi. L'operazione, anche quest'anno, si svolge nei canonici tre mesi estivi, dal 15 giugno al 15 settembre in tutta Italia, laghi compresi quest'anno, e come le dicevo prima, avrà una proiezione sia a terra, con le pattuglie che quotidianamente vigileranno la linea di costa, sia a mare per le nostre motovedette. Un grande lavoro per i suoi uomini e un grande lavoro che comunque garantisce la sicurezza e la tranquillità dei bagnanti. Sì, fra le molte funzioni che il corpo esercita, sicuramente quello della sicurezza della navigazione e la sicurezza della balneazione sono quelle che in estate assorbono la maggior parte delle nostre risorse. Grazie. 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 Grazie.